Alla sindaca di Monserice su Facebook scrivono sindaca Bocchinara, lei ovviamente in quanto donna e in quanto rappresentante delle istituzioni denuncia il fatto, secondo me, di una gravità assoluta e il giudice ne decreta l'archiviazione. Fantastico. E ne decreta l'archiviazione e oggi abbiamo le motivazioni perché, vado a leggere perché in realtà non essendo un giurista non questa raffinatezza, viene archiviato per la modalità della condotta e per l'esiguità del danno perché, data la ridotta diffusività del commento, che si inseriva in una serie di numerosi altri. Siccome c'erano anche altri commenti che ovviamente non erano offensivi, questo essendo in mezzo ad altri non è un problema. Cioè voi potete tranquillamente parlare del tempo, dire che fa caldo, che c'è la siccità, che i fiumi sono in secca e poi dire ciao Bocchinara lo puoi dire, purché sia in mezzo ad altre frasi. Questa è la motivazione della dell'archiviazione. Io sono, di fronte a questo, sono inorridito, assolutamente inorridito perché credo che una donna e una sindaca non possa assolutamente essere oggetto di attacchi schifosi come questo. E vorrei vedere tutto quel mondo che è sceso in piazza contro gli alpini e solo perché un alpino ha detto ciao Beatosa a una ragazza, che poi tutto si è rivelato in nulla assoluto, ecco vorrei vedere tutto quel mondo scendere in piazza e avere lo stesso sdegno che hanno avuto in quel caso con gli alpini. Lì eri motivato, qui invece la motivazione c'è ed è grave ed è grave e qui tutti dovrebbero prendere posizione. Ho il dubbio però che essendo questa è una sindaca non di sinistra, ma sì, chi se ne frega. Ciao Beatosa.